Non accenna a plagarsi l'ondata di contagi da Covid-19 che sta investendo l'intero paese ed in particolare la regione Campania, che ieri ha fatto registrare 9.312 casi. Numeri che preoccupano e che hanno spinto il governatore Vincenzo De Luca a firmare una nuova ordinanza che prevede la reintroduzione dell'autocertificazione per spostamenti interprovinciali e la richiesta di coprifuoco dopo le ore 23. Imposta la zona rossa nel comune di Arzano, visto il preoccupante andamento della curva epidemiologica. Nella città di Torre del Greco sono stati registrati ben 13 casi di positività. La nota del primo cittadino Giovanni Palomba fa sapere che si tratta di cittadini asintomatici, tutti sottoposti a regime di isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi nel comune Corallino salgono dunque a 91, di cui 85 in isolamento e 6 ospedalizzati. Salgono i casi anche nel comune di Bosco Reale. Sono 30 tegli attualmente positivi, annuncia il sindaco Antonio Diplomatico, che rinnova l'invito ai cittadini di rispettare rigorosamente tutte le ormai note misure per contenere e diffondersi del virus. Boom di contagi anche nella città di Castellamare di Stabbia. 25 sono i cittadini, tra cui un bambino di 4 anni, una bambina di 5 anni e 5 ragazzi in età adolescenziale, che nelle scorse ore sono stati informati della positività al Covid-19, facendo levitare il totale degli attuali contagiati a 149. Positivo al tampone anche il sindaco della città di Portici, Enzo Cuomo. Il contagio potrebbe essere avvenuto al comune, dove abbiamo registrato la positività di due dirigenti comunali ed un assessore comunale, sostiene il primo cittadino, che nei giorni scorsi si era già preventivamente isolato. Fortunatamente, dopo qualche sintomo comparso, quando già ero in isolamento, posso dire di sentirmi quasi bene, rassicura sulle sue condizioni. Restano per il momento invariati i bilanci nelle città di Ercolano e Torre Annunziata, dove si conteggiano rispettivamente 72 e 68 casi positivi.